Siamo a Villa dei Risis a Pescara con Milena Pesolillo dell'Accademia Bianca Azzurra. Ci sono i ragazzi della vostra scuola calcio che dopo oltre un mese e mezzo vorrebbero tornare ad allenarsi, a fare attività sportiva, però questo non si può perché gli impianti comunali sono chiusi. Voi fate un appello al comune affinché possano essere riaperti per far tornare ad allenare questi ragazzi? Sì, più che un appello è il nostro diritto. Dopo sei settimane che siamo stati in zona rossa restrittiva, specialmente il comune di Pescara, siamo tornati in zona arancione e non ci aspettavamo una decisione e un'ordinanza così assurda che considerando un RT basso e i contagi di nuovo in calo, loro hanno tutto il diritto di poter fare attività sportiva. Loro si sono visti comunque chiudere il loro campo e non è giusto e noi ci batteremo, faremo qualsiasi cosa perché loro devono non solo riavere il campo ma devono poter fare attività sportiva. Tra l'altro questa ordinanza è arrivata lunedì sera dopo che comunque avevamo riaperto anche l'attività di base con tutti i bambini che erano stati fermi per sei settimane, ripeto sei settimane, è arrivata un'ordinanza lunedì sera quando lunedì noi abbiamo riaperto in maniera tranquilla, risanificando, rifacendo il protocollo, autocertificazioni. Quindi a questo punto ci vuole un po' più di umanità perché se si sapeva che si andava incontro a una decisione del genere non ci fa riaprire per niente perché dietro ci sono tante emozioni, i bambini non ce la fanno più e non è proprio più giusto una cosa del genere. Voi volete tornare a giocare, vero? Certo, ma c'è sì che vogliamo tornare a giocare e a praticare sport a quella parte perché noi non ce ne facciamo più a stare a casa. Daniele è il capitano della squadra, allora tu a nome di tutti vuoi dire che bisogna tornare a giocare? Certo, certo che sì. Ecco qui Simone, centrocampista, anche tu insomma come i tuoi compagni davvero è difficile andare avanti, volete tornare a giocare, adesso sta arrivando anche la primavera. Speriamo che si riapra il presto possibile, speriamo se non ci blindano pure questa volta perché pure a Pasqua e Pasquetta sono situazioni un po' difficili e speriamo di andare avanti. Francesco è il portiere, tra l'altro anche della nazionale, cosa ci vuoi dire Francesco? Io voglio venire qua per fare allenamento di calcio e anche artistica, è quello che ha fatto e questo è mancanza al rispetto come tutti gli altri, vi ringrazio. Io voglio venire qua.